Come tutto il Salento, anche Caprarica conserva degli olivi secolari, maestose presenze senza tempo, guardiani del territorio e testimoni di una storia contadina centenaria. Questi alberi sono quanto di più prezioso il Salento conserva ancora immutato nel tempo, non solo perché rappresentano da sempre un'importante fonte di reddito e di approvvigionamento dell'ottimo olio extravergine di oliva, ma anche come simbolo caratteristico dell'intero territorio salentino. Pazienti e rugose mani contadine hanno nel tempo dissodato le terre dalle pietre vive e reso i terreni propensi alla coltivazione dell'ulivo. Da quel momento quest'albero è diventato il compagno principale del contadino, un figlio da custodire e da curare, in un rapporto simbiotico tra uomo e natura che si autoalimenta vicendevolmente nel tempo. La bellezza mozzafiato delle inconsuete e mistiche forme dei tronchi, attorcigliati su se stessi, dalle forme più improponibili e dalle grandezze più assurde, fanno sembrare questi alberi centenari delle vere e proprie sculture viventi. Ogni albero è un misto di magia divina e armonia naturale, ognuno diverso da tutti gli altri, unico ed irripetibile.